ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su fifa 18 sono arrivato nella stagione successiva a inizio calciomercato quello estivo infatti come vedete siamo a luglio 2019 perché si fosse perso l'episodio precedente deve sapere che siamo riusciti per il secondo anno consecutivo a ottenere la promozione e per quanto riguarda noi siamo riusciti appunto andare in championship la famosa serie b tra virgolette inglese bene allora come purtroppo è già successo ovvero in questi anni intendo queste stagioni questa carriera qua ogni volta che inizio calciomercato ho dei problemi che problemi? problemi a livello di budget la cosa che mi fa un pochino tra virgolette innervosire e mi fa dubitare sulla qualità tra virgolette societaria di questa squadra è che affinché ero in football league su e volendo anche in football league one posso capire che magari un tot di budget c'è più di un tot di budget magari immaginavo che non fosse disponibile ora che sono arrivato in championship sinceramente questo tipo di budget mi sembra abbastanza poco perché comunque come già dissi in un precedente episodio sinceramente non ricordo qual è preciso ma comunque qualche episodio recente fa la championship a parer mio cioè fra championship e le varie football league one e football league two cioè c'è parecchio di stacco a livello qualitativo quindi secondo me bisognerebbe fare una squadra non dico veramente più forte ma come qualità totale ad avere ad esempio secondo me così a casa abbiamo più o meno no come qualità totale un 72 abbondante ma riuscirà a fare una squadra 75 secondo me secondo me ripeto poi chiaramente magari un dipende se gioca proprio non le simona gioca proprio la partita magari anche con una squadra di di 50 per di riuscire a vincere tutte per di però secondo me per un proprio un discorso anche di 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 equità no secondo me la qualità media che deve avere una squadra e potete giocare in championship per appunto poi poter andare eventualmente in premier league deve andare secondo me intorno al 75 più o meno ripeto quindi quello che avevo fatto vedere prima quanto riguarda il budget mi sembra abbastanza poco e sarà a meno che non succeda qualcosa se è un problema in questo mercato qua comunque banda alle chance io proseguo ho già praticamente scelto il torneo quello per campionato con l'estivo ho messo come sempre quello che si è vinto più redditizio e niente guardiamo intanto come ci come ci comportiamo queste vertie qua sperando magari di andare avanti il più possibile così magari mi arriva anche qualche sordine in più e niente vedremo un po intanto come avete visto credo è arrivata un'offerta per il pressio di wakefield e direi di accettarla tanto è un giovane di 63 fra l'altro più l'anno cioè probabilmente non crescerà più di totte nel senso non è che ti posso dire lui è un buon giocatore da veci non so in una squadrona no però se non è un giocatore che si è allenato può crescere il giusto prima partita del torneo per campionato contro il norimberga vabbè chiaramente come ho sempre fatto e farò soprattutto sempre in questa coppa qua simolo e speriamo bene Silla al 29esimo ci porta in vantaggio Gomez all'ottantesimo raddoppia e la partita finisce buono alla seconda partita vabbè stavolta giochiamo tra virgolette in trasferta tra virgolette perché non so se è un campo diverso comunque è un campo neutro per tutti insomma comunque abbiamo preso gol dopo 16 minuti quindi siamo a svantaggio 2 a 0 addirittura ma mi sa che questa si è persa vanbergen così all'ottantanavesimo un gol per di ok non terminiamo la partita con 0 gol fatti terza e ultima partita del girone giochiamo contro il troyes io lo vediamo sì e niente speriamo bene perché siamo a pari punti quindi se dovessimo pareggiare dobbiamo passare ugualmente noi se vinciamo si passa al 100% insomma quindi meglio vincere la priorità problematica vai Emanue 1 a 0 Brereton 2 a 0 buono va a regola servo imprevisti di non aver vinto anche questa e addirittura 3 a 0 hitter bene Vittoranetta comunque quando ho detto prima anche questa era per riferirmi alla prima perché prima si è persa invece la prima si è vinta no vabbè dov'è comunque dirvelo dun 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 allora no a parte gli scherzi non è stata una cessione semplice nel senso un po' mi dispiace perché comunque era idea per il gioco chiaramente un portiere super valido che cresce perché continuava a crescere però io ho pensato a questa cosa via c'ha 75 no? che c'avessi 90 e comunque 75 e più perché stava dell'altro crescendo non è male siccome non c'ho una lira ho detto papà le papà le ho detto il portiere se ci si va a pensare se si prende uno giovane che magari ha una lossa intorno al 70 72 si è uno dei ruoli che cresce di più io ho detto se mi dovesse arrivare questo è un discorso che ho fatto prima che mi arrivasse eventualmente faccio diciamo un po' di tesoretto no? vedendo pose perché di questo tesoretto non sumo un pochino perché prendo un altro che poi comunque allenando dentro due massimo tre mesi ecco la che aveva pose e con questo ha rifatti dalla cessione magari se ce la faccio prendo qualcun altro insomma io ho deciso di fare questo e video la verità non so come andranno poi le trattative ho eventualmente anche il sostituto in mente chi è il sostituto? lui proprio lui 19 anni 70 sale mi pare che quando inizia il giocio ha o 60 watt o 66 costa sicuramente meno di pose perché calcolate che pose perché l'ho venduto lasciando sta con le posto spende che mi è arrivato poi di soli che vanno al budget insomma l'ho venduto a 13 milioni e 500 mila e il suo valore se non sbaglio era di 7 mila o 6 mila 5 cioè di 6 milioni e 500 quindi nel senso ardo per il suo valore paparole insomma e niente quindi provo a prendere a lui sperando possa venire questo comunque è il perché della vendita di pose perché l'ho fatto perché pose perché è uno giudatore che mi era stato consigliato e quindi ci tenevo particolarmente della spiegazione della vendita via preso preso all'incirca spendendo pari diciamo no andando pari col suo valore perché lui di valore come avete visto era 2007 l'ho pensato 2001 e 8 quindi precise precise e sono molto speranzoso a lui perché è uno dei portieri che consigliano tanto quelle lì che comunque le definiscono promettenti insomma quindi stando a quello di Diano è un giovane talento livelli buoni via speriamo eh semifinale della coppa per campionato vediamo un po' com'è Andrea sta a vedere se prende 8 mila goes Villar fa le peggio azotte in realtà in Champions ha fatto tipo una sorta di dato go eh nella realtà speriamo che nel gioco possa non fare altrettanto comunque Brereton buono lo sblocca lui il ventiquattresimo attenzione 1-1 Sorlot 4-3 rigori buono si va avanti in maniera fortunosa perché se no i rigori parecchio random finale contro il Rapid Vienna speriamo bene eh che a regola se divesse vincere dovrebbero arrivare seppur pochi tra virgolette altri soldi ma non so come mai sono pessimista infatti 1-0 Grant dai oh vediamo un po' si Adams è rosso vai voi il 10 Brereton anche in 10 pareggiamo anzi pareggia in questo caso eh no poi finisce così all'ottantaseesimo prendiamo il gol della sconfitta vabbè alla fine siamo comunque arrivati in finale e quel cosino a regola si è preso arrivederci anche a Docure un altro che sicuramente come Posavec era un tassello fondamentale soprattutto in questo caso della difesa però anche lui mi è arrivato anche per lui mi è arrivata un'offerta diciamo praticamente irrinunciabile calcolando il suo valore veri e prove che lui valeva sono sicuro 7 milioni cioè valeva 7 milioni mi è arrivata l'offerta anzi poi ho fatto una controofferta poi mi è raggiunto l'accordo di 13 milioni e 400 mila poi alla sconfitta che me ne arriva 4 mila di meno praticamente però ehm praticamente era il doppio del suo valore quindi io dico di accettarla e anche per lui ho il sostituto vediamo poi se arriva o no ed eccolo qua il sostituto di Docure Foyt o Foyt non lo so come si pronuncia sinceramente non so neanche se è uno di questi due comunque 73 21 anni peso da Tottenham e anche lui è uno di quelli che probabilmente si è aggeggiati no e rufolati un po' sull'internet no per quanto riguarda F18 sui giovani talenti lo troverete molto probabilmente nelle varie liste quindi vuol dire che anche lui sulla carta promettente si lo so ora a livello di qualità singola sto scendendo sono d'accordo però stando a quando c'è scritto e anche per comunque fare qualche soldino in più vendendo gente un po' più forte prendendo l'altra che poi diventerà forte mentre la gente è venduta prendo fiato in teoria comunque alla fine dopo poco questi V che abbiamo preso in questo caso svilare e poi dovrebbe avere la qualità che avevano sia Posevec che D'Ocurie comunque come avete visto a destra nel video qui lo rimetto se va l'abbiamo acquistato per 7 milioni e 200 mila euri insomma eccoci qua siamo arrivati alla prima di campionato in caso contro il Barsley allora sia per un motivo di velocità di tempisti quindi sia per appunto per il fatto che giochiamo in casa io direi di simularla comunque voglio far vedere una cosina scusate ho sbagliato svilare presso un mese fa praticamente perché siamo al 10 agosto c'è la 70 c'è già 72 un dio altro questo sull'art eb diventa non so nemmeno io boh ditemi pensate al portale più forte che ci sia se ne divento per lui no scherzo non so però io credo che a fine anno se cresce ormintosi il minimo c'è 76 78 comunque una 0 sì là dopo un minuto boh così andiamo di partire a modino e guardiamo se ce la possiamo giocare più o meno è vero che non si può valutare con una partita sola però qualcosina vuol dire no sì là ancora 2 a 0 3 a 0 Van Bergen il buon Van Bergen 4 a 0 Edwards boh che cazzo di soldi si è fatta po' amici di Ale 4 a 0 è vero che giocavamo in casa ma boh 4 a 0 me l'aspettavo nemmeno io seconda partita vabbè contro il vecchio prosciutto battuta fatta già quando si è beccata la squadra all the ham am no così un è prosciutto l'old è vecchio vecchio prosciutto no ci tengo a precisare perché magari qualcuno mi dice ma che cazzo dici giustamente che poi è una battuta talmente triste che non andrebbe nemmeno fatta comunque iniziata boh non si è 1 a 0 si perdi Ale no scherza un po' mi dispiace anche se è coppa vai Brereton immancavole Brereton Van Bergen ancora una volta Ale è a regola dato che non c'è un dato ritorno siamo passati chiaramente anche per quest'anno questa stagione la coppa non rientra nei miei obiettivi quindi probabilmente simulerò tutte le partite non è che non andremo fuori perché poi ce ne andremo terza partita contro il QPR vabbè ripeto sui due motivi sia per essere veloci e poi anzi secondo lo cambio non perché giochiamo in casa ma perché abbiamo vinto quella in casa voglio vedere se simulandola come cioè se la simulo voglio vedere come va a finire quanto riguarda le trasferte anche il QPR è una squadra non sottovalutaria anche loro hanno un sila vedo quel 40 un Gabo Kaoto non lo so poi c'è la sempre lui 1-1 un Gabo Kaoto un Gabo Kaoto si ama lui si ok comunque 1-1 andiamo un po' ma andrebbe anche bene vabbè calcolando il tutto 1-1 va più che bene stavolta invece lo chiamo in casa contro il botto comunque c'è una partita cioè ci sono veramente scusate me ne ho impappinato ci sono veramente uno sbotto di partite porca miseria pensavo fosse lo to alla fine 3 massimo vattro compresa la coppa comunque al quarto minuto Brereton la sblocca 2-0 per noi 2-0 si la ecco si la ragazzi impressionante Brereton cioè l'attacco va in casa per ora toccandomi si fa l'abusi di go e di conseguenza 4-0 ancora Brereton tripletta in conseguenza per ora in casa si vincola inizio super senza volerlo cioè non me l'aspettavo mai pensavo c'era una squadra ho detto ma forse in casa ce la giochiamo e fuori si perde invece fuori vabbè se ne è fatta una di campionato e si è pareggiata in casa invece si si vola per ora bocchia dopo pochi giorni del gioco riaccoci a giocare in campionato stavolta fuori casa contro lo Sheffield vabbè se è Sheffield no? Sheffield West dei noteri del genere deve chiamarsi così che le scorciano i nomi che sono abnormi quindi comunque la simula si sono curiosi a vedere come va stavolta se riusciamo comunque a ottenere almeno un pareggio come abbiamo fatto contro il QPR addirittura per ora siamo in vantaggio Van Bergen al venticinquesimo Foyt e lo diamo sì la sessantunesimo 2 a 0 per noi Forestieri ha cercato la prima partita ma siccome l'ha fatto l'ottocinquesimo quindi è stato troppo tardi è stato fatto troppo tardi il gol e niente perdono 2 a 1 boia ragazzi non me l'aspettavo sono strauntante e stra sorpreso anche perché come avete visto poi c'è stato uno sbotto di cambi probabilmente l'hanno fatto anche loro ma non ci ho fatto caso guardiamo i miei giocatori perché appunto c'è la stanchezza quindi c'è c'è da valutare il tutto quindi anche con la stanchezza riusciamo ad ottenere una grande vittoria fuori casa buono giochiamo un'altra volta fuori casa però stavolta torniamo a giocare la coppa la Carabao Cup quella che come dire sempre dovrebbe essere l'FL Cup Carabao solo perché c'è lo sponsor vediamo come ci comportiamo non so ancora mai se ho un pessimista invece stavolta speriamo di no vabbè non che mi interessa tanta l'op però mi fa piacere comunque voglio continuare questa serie positiva questa serie positiva senza sconfitte insomma io ho Reed o Raid penso Reed al settantesimo si va a supplementari edwards al centunesimo ci riporta in vantaggio abbiamo dei manecci si buono 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 un'altra vittoria seppure supplementari allora ho trovato un'altra attaccante che mi accettavo già tutto quindi seppure tac e tac accetto la trattativa diciamo va in porto praticamente però cosa è successo per il preciso allora io in realtà non cercavo un'attaccante almeno un'onora perché se volessi prendere un'attaccante per solito si la perché Bradenton è straforte si la si è vero e fa go però anche quando lo controllo io quando gioco mi ci trovo o non mi ci trovo sono onesto nonostante tutto comunque non è che lo venderei però farebbe eventualmente riserva l'allenare sempre comunque magari poi deve crescere dell'altro insomma però cos'è successo fate conto che ero nella lista hub questa qui hub mercato scorrevo così per vedere se mi è arrivata qualche diciamo relazione sui giocatori che mi interessavano io ho notato che lui come valore mi pare mi pare costa intorno cioè intorno 6-7 milioni di euro e qui fin qui cosa c'è non stava niente c'è di strano la cosa particolare è che lui aveva e ha appunto che non l'ho ancora preso la clausia di recissoria che vale 3 milioni e qualcosa quindi ovviamente è più o meno la metà di quello che vale e anche di quello che richiedevano mentalmente facendo l'offerta che gli stanno scritto puoi fare un'offerta intorno ai questi fino a acquistarti soldi cioè ho fatto l'offerta chiaramente l'hanno accettata perché è la casa di recissoria insomma comunque ho trattato diciamo il contratto anzi ho mandato uno a contrattare il contratto e niente quindi ho accettato quindi io direi che un attaccante da me attaccante a Brad con 72 che ha 20 non è male cioè che ha 20 anni scusate che ha 20 erano 20 anni tra l'altro lui fa parte della lista che vedi quando decidi di prendersi là ovvero livelli che appunto vengano considerati permettenti o giovani talenti quindi io peggio accetta Ale e quindi niente abbiamo preso un ottimo giovane giocatore per la categoria calcolando che poi può salire a poco spendendo la metà di velo che vale grazie alla causa del recisore quindi qual è la lezione qual è il morale della favola date un occhio sempre anche la causa del recisore che chiaramente ce l'hanno arrivederci Velasco che a parte l'ultima partita in cui hai giocato cioè in cui ti ho controllato e fatto un gran partitore perché ci hai servato per ben due volte da probabili gol per il resto a livello calcista mi mancherei veramente poco perché non mi si è mai garbato o mi si è garbato poco arrivederci fra l'altro vale vale ho 250mila Borten ha accettato almeno un troffetto 1.4.000 quindi ci abbiamo anche guadagnato qualcosa ciao Velasco dai dai siamo arrivati all'ultima partita no dei Dermesie perché veramente prima ce ne sono state 8 miliardi e niente cerchiamo a controllare la desfield fra l'altro a quanto pare non so quando non che è retrocesso perché questa squadra qua nella realtà fa parte della premier e fra l'altro per essere una promossa perché l'anno vero nel senso l'anno scorso gioiava in championship appunto e niente fra l'altro non sono un partner nel mio male per essere una promossa comunque giochiamo in caso ho già messo il buon Maulida in attacco l'ho dato il 32 non lo so mi ispirava il 32 che c'aveva Bobo Vieri a tempi dell'Inter non so se sono dell'Inter sinceramente comunque me lo ricordo dell'Inter e una cosina in più intanto vai Bordaci Caraballo una zero una cosina in più che ci tenga a piacere quante cose scorsi attaccanti sono anche contento di averlo preso ed in sequenza poi avere un attaccante eventualmente valido in panchina Maulida intanto ha fatto goffra proprio lui e purtroppo si è fatto male Manuel perché non so se vi ricordate già l'anno scorso quando si fece male proprio si là peccavamo un attacco cioè non c'eravamo una riserva abbastanza decente quindi c'è anche questa cosa qua da valutare quindi sono contento di aver preso Maulida a quel prezzo Fine Manca un'ora al termine del calcio mercato estivo e ho concluso l'ultimo tra virgolette trasferimento Guardate un po' se c'è qualcosa che non vi torna e ve lo faccio vedere io Emanuele vabbè un po' me ne è dispiaciuto perché non era male comunque è arrivato a gennaio scorso è stato ceduto in cambio vabbè con qualche sordino 2 milioni e 450 mila è stato ceduto di sensibilità scambiato per lui Dalot penso che non c'è sia Dalot 20 anni terzino destro sicuramente più permettente di Emanuele e questo anche lui sono strasiguro lui non mi sta un po' deludendo forse è Hitter però dammi tempo ancora mi aspettavo che salisse ancora di più calcolando che ora no ma l'ho anche allenato però vabbè che lui anche lui disse uno dei primi permettenti si cresce ma non cresce tantissimo come per essere svilare che c'è già 73 per D comunque vabbè vediamo un po' cosa farà comunque questo è stato il mio ultimo acquisto ecco e fra tutto Emanuele come avete visto prima come vi ho detto si era fatto male nella simulazione e doveva stare fermo 6 settimane vabbè hanno aggiunto sì per l'amore di dopo tornava però abbiamo già anche il sostituto che può giocare subito insomma e insomma e così finisce il calciomercato di conseguenza il video c'è subito una partita no arrivo lì e poi vi saluto prima di arrivare alle conclusioni voglio farvi vedere due cose allora la prima è che così a caso settembre fino a metà un gioio è nulla quindi vabbè ti ricarichi e poi c'hai 5 in questo caso 5 partite compresa quella di Coppa contro 2 stem nel giro di 2 settimane praticamente 2 settimane e mezzo già quella secondo os voglio farvi vedere un'altra cosina allora la formazione c'è questa allora Maulite è diventato già un 73 che aveva 72 aveva come se 76 la t2 1 e 2 c'era 73 e a salito non mi ricordo chi è poi ti è diventato 74 dal os senza allenarlo 73 svilare 70 watt cioè ragazzi in due mesi è diventato già un 74 così tanto per dirvelo insomma vabbè niente ce ne va a fare vedere comunque ti resta niente basta finiamo il video che non so quanto possa durare può andare tutto però a livello giocato è durato anche troppo e cosa c'è da dire allora c'è da dire che per quanto riguarda il carciomercato diciamo che secondo me seppur non ora l'abbiamo migliorata la rosa perché abbiamo preso i locatori che magari addirittura avevano di meno rispetto a quelli che poi abbiamo ceduto però secondo me col tempo diventeranno ancora più forti e hanno sicuramente più potenziale rispetto a quello che avevano quelli altri no che non ce l'avessero però qui c'erano ancora di più soprattutto secondo me il portiere perché Svilardi ripeto è uno di veri lì che lo danno come nelle liste dei talenti uno dei bei portieri stragiovani costra poco che in realtà poi si è allenato bene diventa veramente veramente forte per il resto a parte il discorso Maulida ovvero che in attacco che ha sui studi che anche lui spero possa essere promettente diventa forte a regola sì ma non si sa per il resto gli altri in particolare Foite e Dalotte in realtà la mente locale sono gli unici due cioè sono gli altri due gli altri unici due che sono arrivati secondo me Foite è molto il promettente di D'Ocuré infatti Giancarlo è l'allenare sale di più rispetto a lui e Dalotte uguale rispetto soprattutto Emanue che comunque era anche diciamo qualitativamente pari forse inferiore rispetto a lui a livello di diciamo caratteristiche insomma quindi secondo me se non ora poi a fine dell'anno ci renderemo conti tutti ci renderemo tutti conto che in realtà ho fatto bene appena questa gente però l'articolo è importante che grazie alle vendete fatte alla fine ho avuto più di budget ecco quindi secondo me è stato un buon carciomercato però chiaramente non è stato il carciomercato come lo è stato magari a inizio stagione scorsa nel quale appunto abbiamo veramente rivoluzionato la squadra non è arrivato diciamo non è arrivato il classico top player tra virgolette per la categoria quello no però se noi abbiamo una top squadra per quanto riguarda questa campionata e poi di campionato lo so che alla fine non vuol dire tra virgolette tra virgolette niente perché soprattutto nelle due stagioni precedenti è andata in maniera opposta abbiamo iniziato ovviamente al top infatti siamo primi dopo 5 partite con 13 punti cioè praticamente abbiamo fatto 13 su 15 punti disponibili cioè calcolando siamo soprattutto nella promossa non è male però come ho detto prima non possiamo valutare la squadra comunque solamente da queste partite ecco perché se si va a vedere addirittura negli anni precedenti insomma nelle stagioni precedenti abbiamo iniziato male e poi si è vinto il campionato nell'ultimo per esempio comunque siamo sempre stati tutte e due volte promossi speriamo un po' se succede l'opposto partire bene e poi fa caccare dopo speriamo di no però quindi vuol dire poco perché siamo sempre all'inizio comunque per me è già buono anche per avere un discorso di valutazione generale alla squadra essere partiti e sì insomma sono io voglio che la squadra comunque è abbastanza competitiva sin da ora ecco se ho detto questo basta e niente prima di salutarvi vi ricordo di mettere bar a fare se volete le solite tre cose ovvero se vi va lasciate un bel like al video condividetelo ma soprattutto iscrivete al canale così potrete me ne aggiornati su tutti i video che caricherò inerenti soprattutto a queste serie qua ma non solo e niente vi aspetto per poi continuare appunto il campionato e continuare bar a iniziare perché alla fine siamo inizi questa stagione qua giocando appunto il mese tutte le partite dei miei settembre giocandole insomma o simulandole insomma via vi aspetto ciao ciao